Eccoci qua, buon sabato pomeriggio, buon sabato pomeriggio a tutti, un sabato pomeriggio piovoso, più autunnale che primaverile per la verità, però in queste ultime, diciamo, speriamo, ultime giornate di lockdown, di zone arancioni, di tutto chiuso, pazienza, insomma, speriamo che il sole e il bel tempo e quella straordinaria primavera ligure che conosciamo tornino presto per quando riapriremo ovviamente il nostro paese a tutti, a cittadini, a turisti, a godersi una bella primavera un po' posticipata ma che certamente non arriverà, c'è anche una piccola allerta gialla per il maltempo, quindi mi raccomando, prudenza, ho tante cose da dirvi oggi, cominciamo ovviamente dai dati, cominciamo dai dati e vi confermo che anche i dati di oggi, i dati di sabato, ci confermano una incidenza da tutte le parti sotto 250 casi per 100.000 abitanti sull'ordine di lunghezza della settimana che come sapete è il numero magico, il numero contenuto nel decreto Draghi per i provvedimenti ulteriormente restrittivi. Sapete che abbiamo fatto decadere l'ordinanza e quindi da lunedì anche Imperi e Savona torneranno arancioni come tutto il resto della regione che è il massimo colore possibile diciamo fino alla fine di aprile a meno che il governo non riveda le sue le sue leggi e le sue direttive. Però abbiamo fatto alcuni giorni con la regione divisa in due, Genova e Spezia in arancione, Savona ed Imperia in rosso per ragione del numero dei contagi più elevato. Ieri finalmente siamo tornati grazie all'attenzione di tutti e ringrazio i cittadini di Savona ed Imperia sotto quella soglia e oggi vi confermo che anche oggi è così. Infatti il dato su base Ligure è 170 casi su 100.000 abitanti per settimana, il dato di Savona è 241, il dato di Imperia è 240, il dato di Spezia è 111, il dato di Genova è 138, la media sotto i 250 ma anche ogni singola provincia è sotto i 250 e questo ovviamente ci conforta del fatto che abbiamo fatto le scelte giuste con appropriatezza, con tempestività, chiudendo quando c'era bisogno di chiudere e quando c'è bisogno di riaprire si riapre, la serietà si vede anche nella capacità ovviamente di poter prendere scelte a volte complicate ma che poi ci consentono di reistradare territori sulla strada giusta. Sono 4597 i tamponi molecolari oggi, sono 2924, vedete che nonostante il giorno semifestivo, insomma è sabato, si continua a tamponare moltissimo per tenere sotto controllo il virus, sono 410 casi in linea con quelli di ieri, dunque sono 13 in meno i positivi complessivamente sul nostro territorio regionale ovvero tra coloro che sono guariti e tra coloro che invece purtroppo hanno contratto il virus. Negli ospedali abbiamo 12 pazienti in più, ieri ce ne erano stati oltre 20 di meno, è un'oscillazione che riteniamo neccesfisiologica, è normale, poi sapete che nel fine settimana come ho più volte spiegato ovviamente le dimissioni sono un filo rallentate, restano stabili le unità di terapie intensive a 76 e quindi direi che la situazione resta immutata rispetto alla settimana scorsa e la terza ondata se così pare che siamo come dicono gli statistici e gli epidemiologi a plateau cioè che il massimo raggiunto dalla nostra regione sulla terza ondata sono questi numeri direi che l'abbiamo passata molto meglio del resto d'Italia anche grazie all'attenzione con cui abbiamo aperto e chiuso, Ventimiglia, Sanremo, un sacco di realtà che hanno dovuto subire misure restrittive me ne scuso con gli abitanti e con i loro rappresentanti, con i sindaci ma evidentemente è stata la prova che agire con tempestività e attenzione, cosa che chiediamo sempre al governo anche per quanto riguarda i dati regionali visto che molto spesso ragioniamo con dati, ormai lo sapete anche voi, sono vecchi di alcune settimane perché prima di raccoglierne così tanti come vuole il governo ovviamente ci vuole molto tempo, invece agire su un dato giorno per giorno, quasi ora per ora con grande attenzione a dove proviene il dato, alla situazione dei singoli territori è evidente che funziona. Adesso come ho avuto modo di ripetere più volte a chi me lo chiedeva io credo che vi siano tutte le condizioni dal 20 di aprile di poter ragionare delle riaperture di un territorio perché c'è necessario bisogno di dare una prospettiva alle categorie, penso alla nostra Liguria ma vale per il resto della nostra Italia, gli albergatori hanno diritto a sapere quando si riaprirà la mobilità tra le regioni e quindi di poter aprire i loro alberghi, abbiamo fatto numerose misure per sostenere anche l'assunzione del personale stagionale ma finché non si sa quando partirà la stagione turistica, la stagione della balneazione, quando i ristoranti potranno riprendere le prenotazioni la notte, io mi auguro che lo possano già fare nelle prossime settimane, la notte intendo ovviamente la sera a cena e via dicendo, quando si potrà spostarsi, le agenzie di viaggio e perché no ovviamente con la riapertura delle palestre, anche i campi di calcetto, poter fare la partita con gli amici, insomma tornare alla nostra vita normale, già torneranno da lunedì alla vita normale, un pezzo importante della nostra scuola ed è importante, infatti tornano a scuola ovviamente i ragazzi le cui classi erano chiuse nelle zone del ponente a ragione dell'ordinanza rossa e tornano in classe anche con la DAD al 50% come prevedono le normative nazionali, i ragazzi delle secondarie superiori in tutta la regione, quindi credo che sia già un piccolo passo verso la normalità e poi andiamo ulteriormente avanti. Oggi abbiamo, e ve lo devo spiegare, un elenco purtroppo importante di decessi, sono 21 le persone segnalate nel bollettino statistico del Ministero, in realtà sono 5 decessi degli ultimi due giorni, quelli che normalmente vi comunichiamo con il bollettino e poi ce ne sono 16 che vanno dal 27 di marzo, 16 persone che non ce l'hanno fatta purtroppo nei nostri ospedali nella loro lotta contro il Covid, dal 16 di marzo a tutto il mese di aprile fino al giorno 10 di oggi, quindi negli ultime due settimane sono questi 16 decessi registrati. Oggi è un ritardo delle nostre aziende sanitarie nel comunicare evidentemente il dato, ho già parlato con i direttori generali, è ovvio che non cambia granché purtroppo per il dolore della cosa in sé, se una persona muore che venga registrata tre giorni dopo, cinque giorni dopo, è evidente che non fa alcuna differenza purtroppo la notizia e il dolore e sono per il fatto che è morto, però credo che ci voglia grande attenzione nello scrupolo dei dati perché a noi servono anche ad analizzare il tasso di mortalità che riteniamo essere sceso moltissimo ma l'accuratezza del dato è una delle cose più importanti che servono per sconfiggere il Covid e quindi ho chiesto a tutti i direttori generali delle nostre aziende grande precisione e solersia perché se in alcuni casi ovviamente la registrazione di un decesso magari dubbio necessita di alcuni giorni, di alcuni esami specifici di carattere autoptico per stabilire esattamente se una persona non ce l'ha fatta a ragione del Covid, in altri casi credo che ci sia solamente certo il super lavoro che giustifica tutto e ci mancherebbe altro, siamo impegnati su tantissimi fronti, però sull'accuratezza dei dati che trasmettiamo quotidianamente, che trasmettiamo ai cittadini, mi voglio che ci sia esattamente l'impressione che tutti possano avere tutta la capacità di poter capire che cosa succede e quindi ci vuole grande attenzione e l'ho chiesto ai direttori generali che ovviamente se ne facciano parte attiva e lo comunichino ai loro collaboratori che si occupano di queste cose. Le vaccinazioni sono salite all'80% del somministrato sul consegnato, oggi sono 9.460 vaccini fatti in una giornata di sabato, mediamente in settimana sono stati tra gli 11.000 e i 12.000. Allora vi dico una cosa, oggi è arrivata due circolari del commissario generale Figliolo, una è arrivata per la verità ieri nel tardo pomeriggio, una oggi. La circolare sui vaccini determina nel numero di 7.815 vaccini al giorno quelli che la Liguria deve fare per restare nei numeri che la struttura commissariale ci darà. Quindi come vedete anche oggi che sabato ne abbiamo fatti 9.460, quindi ne abbiamo fatti di più di quelli che il generale ci consegnerà e che ci chiede di fare quotidianamente per le prossime due settimane, quando poi rivedremo ovviamente la consegna dei vaccini con la struttura commissariale. Noi andiamo avanti a farne di più, continueremo a farne 11.000-12.000 la settimana contro i 7.815 che ci danno perché come sapete, vedete oggi vi ho detto siamo arrivati all'80%, ieri eravamo al 78-76, non mi ricordo, domani andremo all'81, poi lunedì all'82 fino ad esaurire quel pacchettino di scorte che prudentemente ci siamo tenuti. Poi ci auguriamo che fatto questo ovviamente la struttura commissariale ci dia più dei 7.815 vaccini che oggi ci dice e ci darà per le prossime due settimane e pertanto tornare ad aumentare fino a quei famosi 512.000 vaccini al giorno che il commissario figliolo vorrebbe nel nostro paese che comportano per la Liguria 13.000 vaccini al giorno. Oltre, lo dico anche a tutti gli amministratori e i sindaci che ieri ho incontrato per parlare appunto delle ordinanze che abbiamo cancellato che chiedono di accelerare la campagna vaccinale, oltre i 13.000 vaccini al giorno la Liguria non potrà andare perché non ha i vaccini e oggi per le prossime due settimane teoricamente oltre i 7.815 vaccini al giorno non potrebbe andare se non diminuendo ovviamente le scorte, cosa che ho già dato ordine di fare, quindi arriveremo ad azzerare le nostre scorte ovviamente, tanto più che oggi in qualche modo si dice che anche i vaccini Pfizer e Moderna volendo se fossimo in difficoltà potremmo prorogare il termine delle tre e delle quattro settimane per la seconda dose, cosa che non abbiamo, ripeto, non abbiamo intenzione di fare, ma questo ci dà un piccola sicurezza in più di poter, diciamo così, rischiare di avvicinarci un pochino di più al ciglio del burrone. Quindi noi andremo avanti oggi con le nostre 9.460, domani saranno un po' meno perché domenica, come sapete, il grande hub genovese di Fiera è chiuso. Da lunedì ripartiremo con una programmazione che va quotidianamente tra i 12.000 e i 13.000 vaccini, per due settimane riusciremo a tenerla, quindi metteremo al sicuro alcune migliaia di cittadini in più di quelli dei vaccini che ci dà il commissario, poi ovviamente speriamo che dalla diciottesima settimana dell'anno, ovvero dall'ultima settimana di aprile, le dosi di vaccini cominciano a arrivare più copiose. Allora, arriverà anche Johnson, ve lo dico, arriverà Johnson questa settimana, ne arriveranno non moltissime dosi, per la verità circa 18.000 che useremo immediatamente. Ovviamente aspettiamo anche qua di comprendere quali prescrizioni avrà questo vaccino perché, come sapete, è un vaccino basato sulla tecnologia adenovirus o virus potenziato per capirci lo stesso tipo di vaccino, lo stesso tipo di tecnologia che usa AstraZeneca, a differenza dei modelli Freeze, Pfizer e Moderna che usano una tecnologia basata sulla molecola NMEA, come sapete ormai anche voi perché siamo tutti diventati più o meno esperti. Vi ho detto che l'incidenza a livello ligure è 170 su 100.000 per settimana, quindi ben lontana da quei 250 per 100.000 che è la soglia di rischio secondo le normative governative. Vi dico anche che il governo sta facendo in qualche modo trapelare, insomma si dice ancora non ufficialmente che dal 20 potremmo trovarci per riscutere di apertura. Io l'ho detto oggi al Corriere della Sera, l'ho detto a tutti gli amici con cui ho avuto modo di parlare. Penso che noi dal 20 dobbiamo programmare, se non sarà il 22 sarà il 3 di maggio, ma dobbiamo metterci a tavolina e decidere quando i ristoranti riaprono il giorno, quando i ristoranti aprono la sera, quando le palestre riaprono e in che modo, quando comincia la stagione balneare, quando si sbloccano le regioni e gli alberghi possono riaprire i loro servizi ai clienti in modo completo per fare ovviamente vacanze, turismo e business. Le fiere, i grandi saloni, noi già stiamo lavorando sul Salone Nautico di Genova, ovviamente nella prossima non lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, certamente lo faremo quest'anno quando ormai l'estate sarà la fine e la situazione sarà certamente tornata alla normalità per i ritmi di vaccinazione, ma insomma bisogna dare a tutti una prospettiva, sposarsi, fare un battesimo santo cielo, perché a fine giugno non si può prenotare un matrimonio da qualche parte dal momento che i matrimoni si organizzano per tempo, già diciamo di organizzarlo ad aprile per giugno, è una data molto stretta per le usanze del nostro paese e perché non dovremmo l'anno scorso a fine giugno, primi di luglio eravamo tutti in zona bianca e non c'erano neppure i vaccini, perché non dire già oggi che è possibile farlo, insomma bisogna programmare il futuro. Vi dico un'ultima cosa, oggi vi parlavo di due ordinanze, oggi abbiamo recepito anche la seconda ordinanza del generale Figliolo. Come sapete, Draghi l'ha detto più volte, il Presidente del Consiglio, il Primo Ministro ha detto più volte, bisogna concentrare ogni 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 sforzo tra le persone che come purtroppo vi ho detto anche adesso vanno in ospedale e purtroppo muoiono. Queste sono gli ultraottantenni, questi sono i cittadini ultra vulnerabili e poi alcune categorie, le grandi disabilità, i loro caregiver, ma insomma la grande massa sono i cittadini più avanti con l'età che rischiano di più, quindi oggi gli ultraottantenni, da noi già stiamo prenotando e attivando le vaccinazioni per 70-79 anni, questa settimana apriremo anche dai 65-69 anni, quindi stiamo scendendo con l'età. Bene, l'ordinanza del generale Figliolo dice basta con tutto il resto, concentriamoci solamente su queste categorie. Poi come sapete c'è il tema che AstraZeneca è stato di fatto previsto solamente per i cittadini sopra i 60 anni, quindi utilizzeremo AstraZeneca dai 60 ai 79, utilizzeremo Pfizer e Moderna per over 80 e per ultra vulnerabili, andremo dritti per quella strada. Ci sono alcune categorie che ovviamente sarà un po' più lenta la loro vaccinazione per concentrarsi su coloro che soffrono di più e che rischiano di più. Mi sembra anche giusto per non solo permettere in sicurezza persone che rischiano di morire se prendono il virus, mentre altre diciamo dall'età della mia generazione in giù rischiano meno, non che non rischiano, ma ovviamente rischiano meno. E poi anche per riaprire il paese c'è bisogno di mettere in sicurezza e liberare gli ospedali, quindi ci concentreremo tutto su quello, quindi se fate parte di una categoria che aveva già prenotato il suo vaccino perché era una categoria prioritaria, ovviamente, e avete meno di 60 anni quindi non potete vaccinarvi con AstraZeneca, quando sarà la vostra età di turno verrete ovviamente reinseriti prioritariamente nella categoria delle vaccinazioni. Quindi di fatto si va tutti quanti per età, ovviamente che ha avuto la prima dose finirà la sua vaccinazione con il vaccino come è giusto che sia per non lasciare nessuno a metà, anche se una prima dose di vaccino già protegge, ma insomma diciamo che è giusto che si finisca tutto. Lo dico che quindi la priorità assoluta del paese è diventata l'età e la fragilità dei cittadini, così è stato messo nero su bianco per la prima volta e gliene sono grato dal generale Figliole del premier Draghi, quindi anche sindaci che pensano la vaccinazione dell'intero paese, penso al sindaco di Monterosso con cui mi sono, Cinque Terre, mi sono messaggiato pochi minuti fa che diceva potremmo vaccinare tutto il paese, da noi è piccolo, ci sono pochi residenti, vero, ma non si può fare. Un cittadino di Monterosso di 70 anni verrà vaccinato quando verrà vaccinato un cittadino di Spezia, di Savona, di Triora, di Campoligure, di Genova di 70 anni, quando ci saranno i 69 anni, Monterosso, Spezia, Genova, Triora e Campoligure, i 69 anni e via dicendo secondo le categorie di età, non vaccineremo su un territorio, vacciniamo attraverso i grandi hub, vacciniamo attraverso strutture che ci consentano di fare decine di migliaia di vaccini, dobbiamo arrivare, lo ripeto, a 13 mila vaccini al giorno e farli solo sulla base della categoria di rischio dei cittadini e siccome ovviamente un cittadino rischia per l'età che ha, rischia per le malattie che ha, che quindi lo rendono più vulnerabili, non rischia certo da un territorio dove vive, se vive sul mare o se nelle nostre montagne o se vive nell'entroterra, nelle valli o in un quartiere di Genova, noi seguiremo esattamente, lo abbiamo sempre fatto, ma ora lo faremo con maggiore ragione, le indicazioni che ci ha dato il governo, che vuol dire solo età e fragilità per patologie dei cittadini, ascendere per età e quindi da domani, tutte le aziende hanno già ricevuto, le aziende sanitarie ovviamente parlo, hanno ricevuto le istruzioni dalla nostra Alisa nel pomeriggio, procederanno a vaccinare dagli ottantenni in giù per età insieme agli ultra vulnerabili che ormai avete imparato a conoscerli anche voi, sono quei cittadini che per patologie che hanno ovviamente sono molto vulnerabili al virus se dovessero ammalarsi. Bene, allora, sono quasi l'ora di cena, diciamo così, vi auguro un buon sabato sera con le vostre famiglie, mi auguro che la settimana che si apre con questo lunedì ci porti a delle svolte positive, sia nei numeri che è violetto, le condizioni ci sono tutte, sia ovviamente nelle scelte che farà il governo per riaprire il nostro paese, tanto godiamoci le case, le famiglie, i parenti, quelli che convivono con noi, stiamo ancora prudenti e attenti perché mentre avanti la campagna di vaccinazione abbiamo bisogno di liberare i nostri ospedali, di fare in modo che il sistema sanitario non fatichi in questa terza ondata che ripeto, grazie all'attenzione di tutti voi, ai nostri comportamenti e alla capacità di scelte anche dolorose abbiamo tenuto sotto controllo, guardiamo il futuro con ottimismo e poi da lunedì cominciamo a ragionare di come riaprire questo paese e sono certo che anche il governo vorrà farlo insieme a noi. Buon sabato sera a tutti.